Allora Francesco, sicuramente la tua storia con Giulia ha fatto molto discutere, ha anche appassionato molto il pubblico, quindi insomma una domanda su di lei così, che tipo di rapporto, cioè non so, sei innamorato, ti piace, la vuoi conoscere adesso che insomma siete tutte e due fuori? Ma adesso che siamo tutti e due fuori, come ho sempre detto a lei, dobbiamo iniziare la nostra conoscenza fuori, perché un conto è viversi delle cose dentro e vivere in una certa maniera in un contesto del genere. Ma le basi ci sono però, secondo te, per iniziare una conoscenza. Ma le basi ci sono, però io da qui a parlare di amore, vero e proprio, sono una persona che ci va molto cauto, sta arrivando, ecco. Sei troppo furbo Francesco! Che luci ti hanno fatto? Cioè praticamente ho il cero in mano, cioè c'ho il cero. E c'ho l'ascendino se vuoi. Scusate, vi devo fare una domanda indiscreta, una domanda indiscreta. Passerete la notte, dormirete insieme? Eh? Dormirete insieme stasera? Ho capito. Dormirete insieme stasera? . T�. T�. T Dr. T Reality. Grazie a tutti